Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Come certamente saprete il 20 e 21 settembre si tornerà alle urne non soltanto per il referendum, non solo per elezioni amministrative importanti di città come Trani e Andria, ma si tornerà soprattutto a votare per rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il nuovo governatore per i prossimi cinque anni. Noi continuiamo il nostro giro per incontrare i candidati, i protagonisti di questa competizione elettorale. Oggi facciamo la conoscenza, grazie per essere con noi, di Giuseppe Tupputi, nato a Barletta, cresciuto e professionalmente impegnato proprio nella città della disfida che si propone di entrare in Consiglio regionale ed è candidato in una delle liste a sostegno di Michele Emiliano, il governatore uscente. Prima di entrare nei temi politici però cerchiamo di conoscere la persona. Chi è Giuseppe Tupputi? Innanzitutto un saluto a tutti e vi ringrazio per l'invito. Poi nel merito, per farmi conoscere la gente che non sa la mia professione o quello che faccio, dico che da qualche anno rappresento a livello nazionale una confederazione sindacale, la CONFALP, che si occupa dei problemi dei lavoratori e dei pensionati, lavoratori di tutti i settori, agricolo, piuttosto che commerciale, artigiani, industriale anche. La confederazione si ramifica su tutto il territorio nazionale e ad oggi è presente in oltre 300 realtà in Italia. Perché Michele Emiliano? Perché questo sodalizio? semplicissimo, perché da qualche anno abbiamo seguito quella che è la politica adottata dal governatore pugliese nel merito del nostro territorio e abbiamo ritenuto opportuno creare questo sodalizio e integrare il nostro programma con il programma di governo di Michele Emiliano e di iniziare un percorso insieme. Naturalmente la passione politica non è cominciata in coincidenza con questa campagna elettorale. Lei ha già avuto esperienze politiche? Certamente. Io sono stato eletto la prima volta che ero poco più che maggiorenne. Ho sempre militato nell'alveo del centro-sinistra e non rinnego le mie origini e la mia storia politica. Anche per questo diciamo ci siamo trovati sin da subito d'accordo con il presidente Emiliano perché anche ideologicamente vedevamo la politica nella stessa maniera. Oggi io credo che ci sia bisogno di persone che abbiano competenza e conoscenza innanzitutto dei problemi ma soprattutto della società nel suo intero alveo. Crediamo che con la nostra professione siamo quotidianamente a confrontarci con la gente quindi siamo nel sociale nel vero senso della parola e a confrontarci a risolvere molte volte i loro problemi. In questo momento noi riteniamo opportuno essere presenti all'interno delle istituzioni. Non vogliamo essere più la parte intermedia coloro che debbano necessariamente mediare tra le istituzioni e la gente comune. In questo particolare momento anche a seguito della pandemia che ci ha sconvolto la vita noi riteniamo che l'improvvisazione debba essere messa da parte e soprattutto la gente deve riconoscere in questo momento che chi fa della politica il proprio mestiere secondo me può tornare tranquillamente a casa a far nulla. Dobbiamo scegliere, anzi la gente deve scegliere, ha l'obbligo di scegliere in questo momento gente seria che risolva nel quotidiano i problemi e che soprattutto non abbia paura di prendersi le proprie responsabilità. Noi non ci siamo mai nascosti, ci abbiamo sempre messo alla faccia e in questo particolare momento riteniamo necessario metterci la faccia, il nome e soprattutto l'intera confederazione a sostegno di Michele Migliaro. Ecco questo è importante perché venendo dal mondo sindacale lei ha avuto la possibilità di guardare la società da un osservatorio privilegiato perché lei si rende conto davvero delle preoccupazioni sia degli imprenditori sia dei lavoratori che in questo momento soprattutto dopo l'emergenza sanitaria e quindi quella economica che ne è derivata hanno davvero grandissima difficoltà nel ripartire. Lei ha detto in una delle prime dichiarazioni subito dopo la ufficializzazione della candidatura che è il momento di agire, non è più un momento di parole, è il momento di essere pronti a dare la propria disponibilità. Sì, è il momento di interfacciarsi anche con la parte tecnica della politica, la parte scientifica, io credo che la politica da sola vada poco lontano, c'è bisogno di instaurare dei tavoli tecnici, politici, programmatici che vadano a mettere a sistema quello che devono essere gli interventi strutturali dell'economia regionale in questo caso. Ma per farci capire meglio dai telespettatori, io credo che per fare un esempio pratico, io credo che bene ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte a interfacciarsi con una task force per individuare le possibili operazioni e interventi da mettere subito in campo. Io credo che quel modello, quella struttura, quel tipo di tavolo non debba essere più una task force ma debba diventare necessariamente la quotidianità. Abbiamo visto in passato che tanti, tantissimi, forse quasi tutti hanno fatto politica rivolgendosi alla gente con prosopopia, lanciando spot e poi ovviamente non dando risposte concrete. Questo è il momento di mettere da parte le comparsate televisive piuttosto che i mixer da DJ di Salvignana Memoria. Questo è il momento della serietà, il momento di non essere populisti e il momento di mettere delle risposte perché il nostro Paese deve ripartire, ma io aggiungo la nostra terra deve ripartire. Per fortuna siamo stati colpiti leggermente dalla pandemia e siamo stati bravi anche a tenerla sotto controllo da un punto di vista sanitario e di questo devo ringraziare il Governatore Emiliano e il Professor Lopalco in primis. Però dobbiamo essere bravi a ripartire anche da un punto di vista economico e io credo che tavoli tecnici, programmatici, seri e non solo spot o interventi a spot le 600 euro non è più il momento delle 600 euro, delle 1000 euro, è il momento di fermarsi, di tirare una linea e di ripartire. Ecco, lei sarà candidato nella circoscrizione della sesta provincia, quindi Barletta Andrea Trani e gli altri sette comuni del territorio. Prima di dare le risposte è necessario capire le domande. Quali sono le domande che secondo lei vengono da questo territorio a cui non sono state date risposte in passato? Noi paghiamo uno scotto, quello di essere l'ultima provincia nata e sorta sul territorio regionale pugliese. purtroppo chi ci ha preceduto in consiglio regionale, pur dopo aver fatto tantissime promesse agli elettori non li ha mantenuti. Dobbiamo ricordare che nella scorsa consigliatura regionale noi abbiamo eletto da questo territorio sette consiglieri regionali. Paradossalmente la qualità di questi consiglieri regionali è stata inversamente proporzionale al numero. Io ho detto in altre trasmissioni e voglio ripetere in questa trasmissione il Presidente Emiliano ha sentito la necessità di aprire degli uffici di presidenza all'interno dei capovoli di provincia. Questo lascia capire come il territorio non sia stato ben rappresentato all'interno della regione Puglia. Io credo che sia arrivato il momento, anche per i sette consiglieri che mi hanno preceduto, di stare un po' fermi. La gente deve cambiare in questo senso per vedere se altri possono dare delle risposte migliori che in passato non sono state date. Ci sono consigliere regionali che sono state elette anche per due legislature. Essere consigliere regionale significa rappresentare l'intero territorio della sesta provincia pugliese. Essere consigliere regionale non significa mettersi le medaglie addosso e andare in giro a tagliare nastri. Qualcuno ha rappresentato la nostra terra, la nostra provincia solo durante le manifestazioni di inaugurazione di varie associazioni di volontariato piuttosto che pseudo-aperture di nuove caserme dei vigili del fuoco. In questo momento è il momento di bocciare quel tipo di politica. Io chiedo alla gente, in virtù anche della professione che facciamo quotidianamente e degli sportieri che abbiamo su tutto il territorio della BAT, di darci fiducia. Questo è il momento di darci fiducia, anche perché noi le risposte all'interno delle nostre strutture, ai nostri lettori, le abbiamo già date. Mi vuol fare qualche esempio di impegno che lei può prendere per questo territorio. Quali sono le emergenze che lei riscontra? Io ho messo su un piccolo programma di governo, se così lo possiamo chiamare, tra virgolette. Tre elementi fondamentali, sicurezza, agricoltura e turismo. Intrecciando questi tre elementi noi riusciamo a portare la BAT ad essere capofila all'interno della Regione Puglia. Non c'è all'interno della BAT e non si è mai avuto 10 sindaci che rappresentano questo territorio e i 7 consiglieri regionali, da destra a sinistra, senza distinguo, perché quando si parla di sesta provincia si deve parlare in maniera asettica, senza far riferimento ai partiti o alle liste civiche. Questo territorio non ha mai visto un tavolo tecnico che parlasse di un piano strategico di turismo integrato. la nostra provincia, la BAT, può essere e deve essere rappresentata da Barletta fino a Spinazzola. Qualcuno si ricorda di Spinazzola o Minervino solo nel momento delle campagne elettorali. Noi questo non lo faremo mai, non l'abbiamo mai fatto e vi dico di più, non lo facciamo quotidianamente all'interno della confa perché anche a Spinazzola e a Minervino siamo presenti e andiamo a dare risposte là. Noi chiederemo ai 10 sindaci, se dovessimo essere eletti, di sedersi intorno a un tavolo e di programmare il futuro di questa provincia all'interno delle istituzioni regionali. Chi non lo vorrà fare sarò il primo a denunciarlo pubblicamente sui media. Del resto dovrebbe essere abbastanza semplice riuscire a concretizzare questo obiettivo, visto che la provincia ha già la conferenza di 10 sindaci. A questo basterebbe aggiungere i 6-7 consiglieri regionali che dovessero uscire perché il numero, lo ricordiamo, dipende anche dagli incastri dei resti. Teoricamente sono 5 i consiglieri regionali assegnati, nell'ultima consigliatura per effetto dei resti si è arrivati a 7 consiglieri regionali. Ecco, quindi abbiamo sentito la declinatura del turismo e effettivamente riuscire ad esprimere una sola voce per tutta l'area sarebbe sicuramente un ottimo volano. Poi ha parlato però anche di agricoltura e sicurezza. L'agricoltura cosa si può fare? In agricoltura si può fare innanzitutto partendo dalla sicurezza perché non dobbiamo dimenticare che i nostri agricoltori stanno pagando in questo momento la mancanza di sicurezza nei campi. Io voglio ricordare ai telespettatori che all'interno delle strade provinciali non sono presenti telecamere di videosorveglianza, si possono integrare attraverso dei project financing con il privato, dei progetti finanziati ovviamente dalla comunità europea attraverso la regione Puglia, dei progetti pubblico privati dove si vanno a instaurare delle telecamere di videosorveglianza che servirebbero ai nostri agricoltori specialmente in questo momento di raccolta di garantire un ben minimo rispetto delle norme di sicurezza nei campi. Non ci dobbiamo dimenticare che in passato i nostri agricoltori e in questo momento in altre province della regione Puglia stanno pagando carissimo lo scotto della mancanza di sicurezza ma questo può essere solo un primo passo. Ricordiamo ad esempio i furti dei carichi di olio o di uva o di vino, intere botti, interi camion rubati per esempio, effettivamente la videosorveglianza potrebbe essere una risposta. Ma io voglio ricordare anche agricoltori che hanno pagato con la vita la difesa del proprio prodotto e la difesa della propria dignità perché non dobbiamo dimenticare che per l'agricoltura il proprio prodotto rappresenta la dignità e come per l'agricoltura e ve lo dice uno che quotidianamente si interfaccia con gli agricoltori dal bracciante agricolo al piccolo imprenditore o al coltivatore diretto. Per un agricoltore il proprio raccolto, vedere crescere il proprio raccolto è come vede crescere un figlio e già devono pagare lo scotto delle calamità atmosferiche. Poi si devono vedere comunque usurpati del proprio vivere, del proprio quotidiano attraverso furti, assalti criminali. Ma ci sono anche persone che hanno pagato con la propria vita la difesa del proprio prodotto. In questo le istituzioni sono mancate, in questo bisogna fare tanto e abbiamo necessità di fare tanto. È finito il momento di parlare o di annunciare qualcosa che poi non viene messo in campo. Questo è il momento delle azioni. Chi non ci sa a questo tipo di politica può stare a casa. Quindi l'agricoltura chiede solo sicurezza o c'è anche un problema di costi e di remunerazione dei costi? C'è anche un problema di infrastrutture. Io posso fare riferimento ai consorsi di bonifica. Consorsi di bonifica che non funzionano. Paradossalmente l'unico consorzio di bonifica che funziona all'interno della nostra regione è il consorzio della Capitanata. Ma anche là non è che funziona. funziona meglio rispetto ad altri. Quelli sono diventati per troppi anni postifici della politica. Dobbiamo azzerare, fermarci, pensare a un riordino di queste strutture, ovviamente attraverso le istituzioni regionali e dobbiamo pensare anche a un miglioramento dei servizi. Ci sono dei consorsi di bonifica che non danno servizi, però fanno pagare la quota fissa annuale all'agricoltura. Questo è il paradosso. Non ricevo il servizio e pago per qualcosa che non ricevo. Dobbiamo fermarci, incentivare anche a uno sviluppo ecosostenibile i consorsi di bonifica. Io voglio ricordare che i consorsi di bonifica, né all'interno dei consorsi di bonifica, sempre attraverso dei project financing, si possono ristorare dei pannelli fotovoltaici, dei sistemi alternativi di energia elettrica che consentirebbero anche un abbattimento dei costi dei consorsi di bonifica e di conseguenza un risparmio anche sulle cartelle che poi l'agricoltura dovrebbe pagare. Dobbiamo vedere l'agricoltura in una fase nuova. È finito il tempo dell'agricoltura che andava in campagna con il carretto. Dobbiamo, da questo punto di vista, politicamente emanciparci. Forse qualcuno non conosce l'agricoltura, ecco perché non è stato pronto in passato a dare questo tipo di risposte. Ci vogliono persone, come dicevo prima, che abbiano competenza e conoscenza dei problemi. A questo proposito, lei lo ha già accennato, ma oltre ad esserci sette consiglieri regionali, noi abbiamo visto che nel corso dell'ultima consigliatura i rappresentanti in seno al governo regionale sono stati soltanto due per periodi limitati nel tempo. Questo territorio ha bisogno di una rappresentatività forte all'interno della giunta regionale? Allora, questo territorio credo che debba necessariamente avere un rappresentante all'interno della giunta regionale, anche perché, non dimentichiamoci, questo territorio dà tanto da un punto di vista elettorale alla regione Puglia. Però io credo che c'è stato un momento in cui, per diverse ragioni, il Presidente Emiliano abbia ritirato le deleghe assessorili, faccio riferimento alla delega alla sanità per il dottor Santorsola o la delega all'ambiente per il consigliere Caracciolo, ovviamente per ragioni diverse. Però io credo che in questo momento, più che parlare di rappresentatività in giunta regionale, io credo che si debba parlare innanzitutto di rappresentatività qualitativamente è più alta in consiglio regionale. Poi saranno i fatti a ristabilire... È una specie di conseguenza. Giusto. È una conseguenza della rappresentatività più concreta. Più concreta, nei fatti. Ecco, lei spinge molto sul termine della concretezza. Ritiene che una regione come la Puglia possa coniugare politica e concretezza. Di solito non vanno molto d'accordo questi termini. Io credo che il percorso che intersechi la concretezza e la politica all'inverno della regione pulizia sia iniziato già con il primo mandato del governatore Emiliano. Tantissime risposte sono state date dal governatore in questi cinque anni. Tantissimi reparti sono stati riaperti all'interno degli ospedali. Tantissimi poliambulatori sono stati ristrutturati e ridati alla città. Non dimentichiamo che chi oggi si confronta con Michele Emiliano per governare la Puglia. Ha chiuso tantissimi ospedali. Io non dimentico il riordino ospedaliero dell'onorevole Fitto in Puglia. Abbiamo chiuso così questo primo incontro con Giuseppe Tuputi, candidato alla regione Puglia come consigliere regionale nelle liste del centro-sinistra al fianco di Michele Emiliano. Con lui torneremo ad incontrarci sicuramente nelle prossime settimane per approfondire magari temi specifici che riguardano questo territorio. Grazie per essere stato con noi. Non andate via, restate con i programmi di Teledeon.